Due automobili si sono scontrate ieri mattina all'Epifania in località Spineta, sulla Litoranea. Ferite le tre persone a bordo, tra cui una bambina che ha riportato maggiori danni dal sinistro. Per la piccola di dieci anni una frattura e diverse contusioni. Nulla di grave, fortunatamente. Le forze dell'ordine dovranno adesso ricostruire la dinamica dell'incidente, ma stando ai primi rilievi, uno dei due veicoli, entrambi distrutti, stava effettuando una manovra azzardata. Il tratto di strada, come sempre, era molto trafficato e solo per un furtuito caso del destino, la carambola, non ha coinvolto altri veicoli che stavano sopraggiungendo. Non si contano ormai gli incidenti in zona e l'accaduto riaccende i riflettori sulla necessità di una maggiore sicurezza. Grazie a tutti.